la devi stringere perché è molto largona il ciappo dietro no, se non metti il ciappetto non ci sta aspetta, aspetta, aspetta il face medusa scappa scappa, che è? Luisa si ti vedo volevo andare sopra un rollino il capello aspetta al make up questa palestra ha avuto un successo